un quartetto io nicchio la celi hate androshock mamma mia che quartetto signori ragazzi quindi dopo questa introduzione da parte del nostro signor pegolera vi lascio alla visione del video spero che vi piaccia perché qualitativamente parlando ho avuto dei problemi in fase di registrazione e si era un po' svanculizzato alla qualità ho cercato di recuperare il più possibile e spero sia decente che si veda effettivamente quello che succede e se non si vede da che bel cazzo, poco da dire mamma mia signori che tempismo mamma mia mamma mia a e poi ci potete fare una mano e di a andrea come si fa ma la sua è la fata diversa e pensate che quanto importante ti senti andrea che se l'otto ti chiami ti chiami andrea come si fa questa cosa si hai finita che spiegare io non sa ma come devo farlo senti un super erogico si e 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 se non avessi già vista questa cosa pagherei per vedere hai presente i video di quelli la che mettono gli elastici sulle muri e stessi hanno così qua e 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 ma sono fatto la scorta immuni sono andati qua sopra a camperare vicechini ma la parola infatti uno che sale davvero a terra, morto mamma mia fioi però ti ho preso questa cosa? ho preso questa kill no, non ho fatto in tempo di arrivare se tu avresti un canale se tu avresti un canale pulizio già un tizio là posso, posso, posso un altro a destra voglio il pin la carta con la destra sopra uno a ferro eh, qua abbiamo lo sciamo potremmo, cazzo non abbiamo soldi compravamo un bombardamento ma potremmo porto va bene, scusate vorrei vedere lì se c'era qualcuno giù ma oh, ma quante ne so vedete, sono fatti il lancio cazzo, andate a campare con i cecchini infatti sono là, mamma mia prego che gente si e sai, prego si e sai, prego sono tutti sopra uno si è lanciato perciò eh, sinistra per di là ok vediamo se uno qua ah, sei tu era in fondo il tizio ma in fondo il tizio se salgo col cavo mi fotte secondo me ma il pinga? avete il pingo? sono solo io mi avvicino, spedate non pinga un cazzo dai pro io faccio le scale intanto un po' alla volta ci sono, sono arrivato maoh guardate, 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 vediamo che bello tu fattolo quello cazzo è entrato si sa anche gente che scende qua dalle montagne ho fatto mi metto nuova zona sicura individuata qui c'è un bersaglio chi c'era signor Pegorera? aspetta c'è ancora il team c'è ancora l'ospital al piano basso occhio parlando a dove? dalle batagne? si oh si è il target questo è a fingarlo? non lo vedo sono due a terra ho tirato un grappolo si cazzo è riuscito anche a beccarlo che sfiga contatto nemico vabbè dove sono le a? si uno all'altro qui c'è un bersaglio bersaglio marcato eh ma che mira di merda che ho e uno è sulla macchinetta guardate qui sopra sta rotto io non ho più colpi per il car ne ho 40 venga qua signor pego l'era no no li usi li usi c'è l'uomo c'è l'uomo c'è l'uomo ma ci sono pieno per adesso grazie ne ho pure 28 io sul viola e a terra ok ok dai non sto via microlessa non sa dove cazzo sono ma è qua sotto o sotto? qua dove c'era però una battaglia ho sparato non so l'altro era sotto ancora quindi ok la trovo a salire vabbè non grandiamo che non è gas è sceso è entrato se giro per di qua non riesco a vederlo a terra bomba che colpo che gli ho dato cazzo lo prendo in fronte sì ne arriviamo non mi sparo là dietro dai che fanno cazzo non ho fottuto qua io lo prendo in alto sopra l'uomo ma cazzo è sopra l'uomo eccolo là a terra grande si ma dai ma non stessi non so quanti cazzo ok quello l'uomo scusate adesso ok se la scuola non è già nel cazzo sta merda di lancio un'altra sopra il tetto ma ecco ma è un orchidio che non è morto l'uomo o c'era un altro sottocamperato fai fuori gara sottocamperato lancio che ha fatto il safe vero sì erano erano sparito io non puoi anche prenderlo prendo un po' di vita sono la battaglia anche le mie armi sono bravo no vado con lo stadio dove volevo andare io cazzo cazzo ma non si muove faccia in volo s aveva fatto ma lo stadio ma non è un buono le testo se la madre il motore per un po' è entrato sono entrato stanno affettando la taglia s sono ci subito applicata delle armi su vetro sono 1 ma ho fatto un lancio la taglia dopo seguite beh, non avevo una delle armi silenziate visto che sparavano si si infatti ma questo rumore si parava di un lancio si ne penga più di due effettivamente a terra uno uno è qua dietro dietro la colonna Fiori sta entrando dietro dalla porta occhio è morto la perra ha eliminato l'Ave vabbè grandi vabbè datemi un'arma di rifiuto non si vuole fuori tutti col grau cosa compriamo delle piastre per i soldi per bombarda compro ci sono solite delle piastre facciamo un sacchetto qui c'è una cosa mi lascia troppate le vostre di cosa di piastere il piacere così dopo ti li su sacchetto ho detto tu sei pieno io tiro su quelle che hai tu io ne ho 6 ma vabbè no 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 si si occhio 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 fortuna fuori fuori ori puoi per questo è utergbest di voi minculano arrestato gefilo scuola rosso grillo acraccatissimo grau di merda la foto per capire patto patto e dopo entriamo subito al amber e poi non vogliamo stare tipo alti per dubbio secondo me tanto io andrò cecchino 8 anni di un certo l'opio troviamo anche bene sei tu accorso quattro stronzi col cecchino non è l'atto il mio è abbastanza scherzi il mio è quello più omosessuale c'è un chilo là deve essere mio vai il chilo ho messo là così mai non vedo nessuno forse non esca c'è un po' l'obato un trappolo c'è anche un troppo quindi ce l'ho anch'io il troppo no anche io ce l'ho la dico ce l'ha c'è un troppo un po' l'ho 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 anche è piaciato così c'è 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 un po' l'ho solito comprare buon vittorio che pensano due bombardamenti io ho un grapolo un po' l'altro l'ho buttato il film compri una via di corsa dai se ne so di c'è che hai un po' l'ho anzi bombardamento no comprati tu come vuoi se non c'è pieno eh no non mi bastavano più i nuovi vabbè te li davo io ma te li davo al bar troppo tardi solo perchè stai streamando non ti offendo regi sta ralando stronzo sto di caro stronzo sei di tre porti scopate stupido ma che tre Mario Cassaviotto il sei adesso sarebbe il momento adatto per campare uomini il c il c il cazzo no vedo mi metterò se vuole se siamo cori in 30 cazzo intanto o sono tutti 1 4 2 2 2 ah ok lo vedete se c'è chiaro altro resto o a paio non lo vedo ma dietro la casetta dietro un albero ok sono la destra ma guarda sulle scuole non c'è più il cazzo posto po' il ti piace no qua dove sono io tipo nell'ombra in mazzi tutti i stipini dove sei dove ah vedi non mi vedi ho un posto perfetto da fare più chi dove sei andrea forti due polini un'altra stile non c'è un'altra cazzo stiamo sotto il mondo sotto al bordo e andiamo avanti un po' boh se anche io mi rivederei tipo quella collina dici 6 6 ci sta ma forza da qualcuno l ma il pego invece lo vedo subito arancione proprio io ho incontro io sono come tornare un evidenziatore vedevi ancora con le gambe eh 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 è negro è negro beh è il tappo è il tappo eh sì è il tappo ma quanta gente c'è ancora vero troppi eh qualcuno ha buttato un troffio e non sono io ok vedo uno qua sta correndo come un pazzo un pazzo ti so sta correndo velocissimo tipo sei pazzo ma secondo lei io me la tocco da solo ma niente è un po' polis saldo localizzato a terra uno dentro polis pappollando mi ha fatto non morire ne ho拉ter at un robot caldo il tappo senza piastra c'è da per terra sono sulle scale di polizia augurato spartano anche di qua a terra quello mamma mia anche poi dietro un occhio dietro al gas comunque c'è un team qua c'è un team qua è sotto cazzo bombardamento e cos'è detto la terra operato l'opera questo è il suo spazio gli tiro bombardamento che sono o che? aspetta 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 se vuoi tirare no no polistico ma non lo prendo mi sei salvato fe non ci credo il mio è morto per me ne ha perra tu ne ha chiesto in fondo sulle montagne che scendono ok hai visto voglio una foto con gravolo vieni fuori guarda che la mia guida no aspetta però mi era attu관ato no occorre qua ok vai tiro l'al bombardamento adesso si direi si 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 vai 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 figa terra dritti dritti la ha fermato ma anche la l'altra grande un po' di polizia rio non presenta a sinistra del corpo a curto rossi sono andati due su quella collina 8 polis 8 polis uno davanti e davanti a noi qua tipo ho visto correre uno occhio stanno fightando gli ultimi due team due team uno siamo noi sono in tre, 4 contro 3 sono qua sotto mi sa fio è sono dovuto oscille, stanno salendo caccato uno, sono qua davanti si caccato anche un altro uno a terra due a terra e riuscivano adosso fatte bravo, bella mamma mia piova la prima con il cielo te ragazzi devo registrare devo registrare più spesso portafortuna allora il cielo te sta anche registrando attenzione portafortuna aspettavamo cerotto si sale 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 si si va a berlino peppe si va a berlino mamma mia e attenzione ha portato la vittoria